La campagna di comunicazione La campagna è una idea di base semplice che arriva però dritta al cuore, è il caso di dirlo, di quanti si apprestano ad affrontare il viaggio più emozionante della vita, cioè il matrimonio. L'impatto è immediato, spiega Giuseppe Cruzi, responsabile organizzativo della fiera, e punta alla semplicità e alla purezza dei sentimenti. Noi abbiamo dato un'idea di una campagna teaser, una campagna che è stuzzicato, abbiamo avuto già diversi riscontri perché in effetti qualcuno quando veniva a conoscere poi effettivamente il vero motivo di questa situazione, in realtà abbiamo un po' ripescato quella che era una situazione che abbiamo trovato sotto i ponti. Ci sarà stato qualche innamorato pazzo che ha fatto questo tipo di proposta a una fortunata innamorata. I nostri grafici, i nostri comunicatori hanno pensato di prendere spunto da questo messaggio d'amore così fanciullesco per riproporlo per la nostra fiera. La semplicità che fa da Leitmotiv a questa quinta edizione della nuova fiera sposi la si ritrova anche nello spot realizzato da WeMake. I due protagonisti si innamorano fra i banchi di scuola e quel cuoricino con la domanda ti vuoi mettere con me diventerà qualche anno più tardi una romantica richiesta di matrimonio. Certo, noi abbiamo voluto in qualche modo quest'anno consacrare la moto eterno, un amore che nasce un po' dai banchi di scuola, diciamo se vogliamo anche con una certa innocenza per portarlo poi fino all'altare. La cosa che ci è interessato è anche stato un po' rivalutare il vecchio messaggio d'amore del bambino che così innamorato, forse l'amore più puro, quello fanciullesco, proprio perché crediamo che sia un messaggio che oggi ci fa ritornare un po' alle origini, un po' di romanticismo non guasta in quest'epoca di tecnologia, facebook, social network. L'appuntamento con nuova fiera sposi è a Campi Salentina nel centro fieristico della zona industriale dal 25 al 27 di questo mese.